Dieci anni fa Ezio Mauro, da direttore, è tornato cronista e osservando la ThyssenKrupp con il fumo delle esistenze bruciate che ancora saliva lento, in modo sincero e acuto come solo un giornalista può fare se è guidato da talento e visione, ha scritto che sull'altare del profitto a tutti i costi a Torino non solo era stata immolata la vita di sette invisibili operai, ma anche la credibilità di quella politica che abbiamo sempre creduto avesse come principio ispirativo la tutela del lavoro e del lavoratore. Con questa motivazione è stato assegnato il premio Anmil ieri sera al Teatro Leonardo di Milano a Ezio Mauro, per vent'anni, direttore del Quotidiano Repubblica. Il riconoscimento è stato consegnato dai presidenti territoriali di Anmil Piacenza e Milano, Giovanni Ferrari ed Angelo Frigerio, insieme al presidente della Fondazione Anmil Onlus, Bruno Galvani. Ezio Mauro ha raccontato la tragedia nell'ambito della pièce teatrale Thyssen, opera sonora. Lo spettacolo è stato particolarmente toccante, sottolineano i presidenti dell'associazione, che rappresenta a livello nazionale oltre 370.000 iscritti fra lavoratori, invalidi, orfani e vedove. Il giornalista Ezio Mauro si è detto onorato di ricevere questo riconoscimento direttamente da chi ha subito gli effetti dell'insicurezza nei luoghi di lavoro e di aver deciso dieci anni fa di andare direttamente a Torino per realizzare il reportage sulla vicenda della Thyssen perché notava la tendenza ad erubricare questo fatto gravissimo come un semplice incidente sul lavoro, mentre era evidente che eravamo di fronte ad uno scandalo della democrazia, ha dichiarato.